C'è di più di questo affare C'è di più di questo amore Qual è il mio livello di apprendimento? In che senso? Nel senso che quando io mi rendo conto di aver sbagliato e di sbagliare qualcosa e di diventare antipatica a me stessa, oltre che agli altri, cambio. A quel punto mi rendo conto e cambio. Pertanto mi affido e anche questa è una crescita perché la partecipazione è anche questo, affidarsi. 25 gigi Plante in mexico I saw lots of fame Landin' in el monstruo Visos in the streets Right out of my list We dream we could get big in mexico I saw lots of fame Grazie! 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 No, anche con la tavola! Bravi! Bravi! Grazie! Grazie!